La Guardia di Finanza di Avezzano ha concluso specifici ed approfonditi controlli a tappeto nel settore dedito alla commercializzazione dei tartufi, scoprendo un sofisticato meccanismo evasivo delle imposte sui redditi, circa 1,6 milioni di euro, e dell'IVA, importi superiori a 1,3 milioni di euro. Gli imprenditori che acquistavano tartufi da raccoglitori direttanti ed occasionali sono tenuti, in base alla normativa fiscale vigenti, ad autofatturarsi gli acquisti. Dunque la fattura, anziché dal raccoglitore, è messa dall'impresa stessa che acquista i tartufi. I raccoglitori dal canto loro hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta contenente le proprie generalità e quelle dell'impresa, riportando nella dichiarazione dei redditi gli importi ricevuto. Nonostante ciò, le società verificate non hanno rivelato i nomi dei cavatori occasionali, motivando questa scelta con l'esigenza di conservare il loro anonimato ed evitare che gli stessi passino alla concorrenza. Non hanno poi esibito alcuna documentazione attestante l'effettiva cessione del pregiatissimo oro nero. È stato altresì rilevato che, per i pagamenti del rinomato prodotto, venivano sborsate ingenti somme di denaro contante, violando sistematicamente la normativa antiriciclaggio che prescrive l'obbligo della tracciabilità delle movimentazioni quando oltrepassano determinate soglie. Sono stati infatti riscontrati trasferimenti di denaro contante superiore ai 2 milioni e mezzo di euro e contestualmente ai responsabili delle avvenute transazioni sono state combinate, in questa operazione denominata oro nero, sanzioni superiori agli 80 mila euro. Sono in corso controlli volte ad individuare ulteriori raccoglitori occasionali di tartufi che operano nel comprensorio marzicano, ispreggio alle disposizioni legislative che impongono invece tutta la documentazione della cessione del prodotto. Prosegue senza soluzione di continuità dunque l'attività delle fiamme gialle abruzzesi a contrasto dell'evasione fiscale e dell'illegalità economica, tutela delle imprese, dei professionisti e dei cittadini onesti che superano nella piena e completa osservanza della legge.